eccoci siamo qui per maria con maria e con monica 5 4 3 2 non me l'aspettavo è una bella immagine un pappagallo tutto colorato che la chiama la chiama marisol 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 e dov'è marisol maria sole maria sole la chiama e lei dove sta non la vedo perché io vedo il pappagallo lei è girata di spalle che sta andando in altre direzioni e non sente il pappagallo che la chiama la chiama poi con la sua vera essenza no che quella del sole ma lei non riesce a sentire questo e vedo che vaga per viotto le stradine la chiamiamo noi maria e chiediamo di darci l'autorizzazione anche lì entra in vari negozi di queste viuzze per cercarci darci l'autorizzazione poi si ferma al centro della via e comprende che può darcela da lì e ce la da che da l'autorizzazione vibrazione e 7 miliardi consapevolezza 154 ps 43 vite 1207 cerverlo 8.6 se non ho capito male dalla prima sessione a oggi maria ha pregato giusto ok momenti di sconforto prima di pregare a quanto stava e dopo che ha pregato quanto stava come vibrazione allora è interessante perché qui è come se ci fosse una specie di tendina e sulla tendina c'è scritto un numero falso rispetto alla sua vibrazione finale se poi apri la tendina viene fuori il numero vero della sua autentica vibrazione post preghiera quindi mi fa vedere prima della preghiera magari è sotto il miliardo e dopo la preghiera davanti alla tendina sopra la tendina c'è scritto 20 miliardi poi apri la tendina per vedere l'autentica vibrazione ed è o invariata o diminuita rispetto a quella iniziale chi ha invocato di fatto quando ha pregato e lei interloquisce con degli angeli l'angelo custode angeli in generale così guarda allora da un lato ti dico che a volte pur invocando gli angeli lei riesce a piccoli sprazzi chiamare la sua ps come se avesse una sorta di discernimento la ps e risponde lei ma altre volte non è così quindi va ad aggrapparsi a delle entità anche temporanee così che passano lì da quelle parti chiamiamo tutte le entità eteriche che maria ha invitato nuovamente nella sua sfera energetica allora inconsapevolmente ci sono alcune divinità induiste poi c'è un falconiforme che mi mostra le sue belle ali che sembrano un po anche da angelo no se opportunamente trasformate un piccolo demone anche se di poca importanza nel secondo universo però tipo come se non si fossero installate stabilmente in lei quindi sono state sì degli appigli però temporanei ora attualmente installate lei non le vedo le viste di passaggio divinità induiste collegate al ganesh che aveva come te lo dietro le spalle a inizio sessione sì perché lei invoca il superamento degli ostacoli questa divinità è conosciuta proprio per questo no per ottenere questo obiettivo superare le difficoltà ma se non sapevo non è quello che porta i soldi il ganesh l'elefante e nello specifico per molti la difficoltà è quella economica quelle più l'axmi proprio l'abbondanza no circondata dalle monete d'oro entità mentali allora io ne vedo due una è singhiozzo l'altra è aborto singhiozzo mi mostra a lei che nei momenti questa entità mentale che la porta ad avere dei forti momenti di sconforto in cui lei si mette totalmente in discussione si critica profondamente come madre come donna in generale e sono proprio questi momenti in cui per esempio prega invoca l'angelo custode l'altra entità mentale sono i sensi di colpa legati agli aborti che ha avuto va bene però io non capisco la sua vecchia sessione è capelli taglio colore taglio colore che volete andata ve la vedere io non me la ricordo l'abbiamo ricordato poc'anzi se ovviamente c'erano delle entità mentali perché sono tornate le entità mentali qual è l'entità mentale che ha fatto tornare le entità mentali l'assenza completa e totale di un lavoro personale l'abitudine al per la preghiera a pensare all'angelo custode come all'essere supremo qual è qua il problema perché noi siamo qui oggi è una seconda sessione è una seconda sessione di grandi cambiamenti oggi siamo ancora a piano 0 non abbiamo fatto un gradino lei ha scelto di stare in superficie e di non andare in profondità di non addentrarsi davvero dentro se stessa l'altra volta ricordo sono venute fuori delle cose molto forti e lei non ha avuto poi successivamente la forza per elaborarle completamente ha voluto liquidarle un po' velocemente ora stanno arrivando tutte queste cose chiamiamole tutte sono ancora vedi per esempio presenti nell'entità mentale singhiozzo quando lei ha questi momenti di sconforto è perché entra nel suo passato un passato molto disordinato un passato di cui lei non va fiera è un passato che ha paura abbia anche condizionato per esempio il rapporto con la figlia e l'abbia magari condizionata nel modo in cui lei adesso è madre solo che non se l'è sentita di fare veramente un esame profondo di questo singhiozzo che livello a 4 aborto 3 va bene chiamiamo non so se l'abbiamo chiamato la volta scorsa però me lo chiede questa volta il nonno disincarnato il bambino morto in ospedale a cui si era affezionata e tutti i suoi aborti è interessante vedere che lei si è molto legata a questo bambino che aveva visto solo temporaneamente no? mentre lavorava alla fine no? ed è rimasto molto colpito dalla sua morte ma è come se fosse emblematico dei bambini non nati dei suoi bambini non nati che me li presenta quasi come se fossero un braccialetto fatto da diciamo diverse perline, perle sì penso siano stati alcuni aborti perché se vanno a creare un braccialetto forse è stato qualche aborto e sono legati fra di loro no? dal filo e lei ce li ha al polso e il bambino? quello là dell'ospedale? allora dunque io lo vedo nel portale aureo dentro al portale aureo capita spesso durante le sessioni che arrivino dei bambini piccoli no? e lui ha accettato uno di questi inviti ed è dentro il portale il nonno? anche anche lo è già gli aborti? alcuni no alcuni è come se fossero stati in una zona non so come dirti come una sorta di nube intermedia che non è esattamente sulla terra e non è esattamente il portale aureo però è come se fosse una specie di nube pesante di quelle che precedono il temporale e che rimane lì così in corrispondenza di Maria vuole metterli lei uno ad uno nel portale aureo? adesso io non so se sono realmente cinque perché lei fa mi fa questo gesto di cinque no? non so se sia un numero simbolico che lei ha scelto si slaccia questo braccialetto dal polso e vedo che riesce a sfilare una ad una queste perle e ciascuna perla è lei a metterla dentro il portale aureo e fa lo stesso movimento per cinque volte e lo chiudiamo sì e Maria un po' si scusa è come se su chiedere scusa fosse per la prima volta liberatorio il liberatorio per lei e per loro e il portale aureo si chiude Monica impianti come se ci fossero degli spilli infilati all'altezza delle sopracciglia e poi degli spilli in zona diciamo genitali anche un po' dietro sia davanti che dietro comunque questa fascia qui dell'addome basso basta a mano a mano destra nome nuovo del nuovo progetto di Maria vali davvero punto di domanda come se ci fosse una provocazione continua e un'insinuazione che lei non vale un granché che non è capace di fatto di combinare qualcosa di buono nome dell'anima madre perla della dello spirito goccia va bene prima di parlare dell'angelo custode parliamo della chat a una chat per tre giorni con un uomo che dopo tre giorni scompare un fake intelligenza artificiale o cos'altro per esempio quando lei diceva no che era di una certa provenienza diciamo in generale est io invece lo vedevo sud zona africa tipo quindi geograficamente collocato altrove quindi assolutamente fake perché qual era lo scopo di questa persona non so se l'aveva già fatto stava per farlo chiedere del danaro va bene andiamo chiamiamo il l'angelo custode di Maria l'unico vero angelo custode è solo la sua anima non ce ne sono altri e lei questo però non lo sa del tutto no perché lei colloca all'esterno un qualcuno che la può aiutare la può ascoltare la può esaudire la può confortare le può fare anche non so dei complimenti ma tutto questo è unicamente soddisfatto è possibile solo dalla sua anima e come abbiamo visto prima quando lei cerca all'esterno questo è come se prendesse così al volo no qualche entità che passa ed è uno spreco di energia e basta chiamiamoli tutti quelli che lei ha identificato come angeli custodi sono esseri di luce sì il più importante ha detto importante si vuole far chiamare anche lui lucifero lei si è rivolta a lui quando quando ha chiesto cosa in un momento critico tipo con allora vedo più momenti uno mi fa vedere il periodo della fattura in cui voleva liberarsi da tutti questi effetti della fattura e uno invece in cui era in gravissima difficoltà blocco con la figlia grande ok no però un attimo andiamo al angelo custode a cui si è rivolta tra la prima e questa sessione quello quello che mi interessa ok come si chiama abigail ok che cos'è un essere davanti al quale ci dobbiamo postare ovvero dotato di anima e per qualche strano motivo un'anima migliore della nostra no a ridacchia sai mentre tu fai queste domande chi 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 ridacchia così con la manina davanti all'anima no allora chiesto ascoltando questa sessione si chiederà ma come ancora parlare di queste robe ebbene sì soprattutto alla seconda sessione se vi rivolgete a noi dovreste studiarvi un po di cose perché sinceramente io oggi ancora parlare di angeli custodi non ho molta voglia abigail che cos'è allora un angelo un essere di luce sì è un essere di luce non è dire le proprie senti sì ok cosa pensa di maria ma che è una debole è una delle tante deboli come se ne parlasse come non so se maria non avesse alcuna importanza ne parla proprio sminuendo la moltissima una delle tante nella massa senza valore eppure maria una cosa che lui non ha esatto nell'anima maria e sua madre l'ha inventata lei esatto lei quindi abigail parla male del suo creatore se ne parla male mortificandola facciamo perdere che il suo creatore si rivolge a lui per essere salvato ma lui è così infido da parlare male del suo creatore esattamente e il suo creatore gli ha dato questo compito sì abigail lo sa che non esiste ma questo poco importa tutti gli altri credono che io esista e quindi esisto esiste ciò che gli altri pensano che esista però c'è bisogno di qualcuno che glielo dica in faccia entro io nella scena mi metto davanti a lui e gli dico tu non esisti non esisto per te tu non esisti in ogni caso come se mi facesse vedere vedi che io esisto e mi fa vedere tutta una serie di persone alcune in preghiera davanti al letto altri che pregano in bagno chiamiamole tutte una quantità spropositata di persone alcune vengono in ginocchio camminando in ginocchio altri con il volto bagnato di lacrime tutti quanti con le mani giunte diamo a tutti l'ostia della conoscenza tutto quello che abbiamo già visto e quello che abbiamo riscoperto anche stavolta tutti quelli che erano in ginocchio si alzano in piedi e sciolgono le mani che erano intrecciate lasciano a terra diversi oggetti che in qualche modo sono collegati alla loro connessione con gli angeli per cui vedo tipo delle piccole foto alcuni addirittura il crocifisso altri delle spillette immagini varie anche dei vasetti di vetro li lasciano a terra quadri raffigurazioni varie di angeli ce ne sono tantissime chi ha capito passa attraverso l'arco svegliamoci quanti passano sotto l'arco quasi il 70 per cento è bizzarro perché da un lato dell'arco è libero nell'altro arco è come proprio un'iconografia in cui c'è sai un angioletto di quelli paffuti con la trombetta pronti lì dietro l'arco ad accogliere in un nuovo tranello il trenta per cento abbondante adesso si spara tutte le sessioni in cui abbiamo fatto canalizzazione di essere di luce di angeli di gesù luciferi satana tutta stessa roba tutta uguale se la spara in loop se la spara mille volte consecutive e noi andiamo a quel punto lì dopo la mille volte con la millesima volta consecutiva che cosa fanno a qualcuno è come se non non ce la facesse comunque non non arrivano queste informazioni nonostante la millesima proiezione non ce la fa proprio bene li salutiamo e li abbandoniamo a un loop eterno di queste informazioni ciao ciao però abbiate l'incubo di queste informazioni per sempre questa merda non sparisce se non sparisce a tutti esatto ancora qua parlare di agire questo modo incredibile quindi quanti entrano nell'arco svegliamoci sono aumentati direi il 78 per cento 78 c'è proprio zoccolo duro e ma beh cazzo va bene maria centrata o no maria si è tra quei 78 certo ok prenda e tutti i suoi angeli custodi di tutta la sua vita e li butti nel portale definitivo delle cose ridicole inutili si lo fa lo fa lo fa gli è ancora grata all'angelo custode che l'ha salvata dall'incidente l'ha ridimensionato ha compreso che non è l'angelo custode inteso in quel modo lì ma è la propria anima la propria anima che aveva ancora bisogno di stare qui in questa manifestazione e continuare a fare esperienza va bene i disincarnati l'abbiamo visti vero sì abbiamo già chiuso tutto giusto giusto vite precedenti col marito è un buono sto marito e lei è una discola proprio un po monella e infatti un po sulla falsa rega di questo mi vuol far vedere la vita in cui lui è tipo il padre e lei è una figlia proprio monella ne combina di tutti i colori scappa di casa ruba anche un po qua e un po la e il padre è sempre lì un po pronto a perdonarla mettere delle pezze sui guai della figlia questa è la prima che mi fa vedere va anche in prigione tra l'altro lei questa è la prima vita che mi mostra mi mostra un'altra vita tipo due pescatori il marito che insegna lei che era un lui a pescare pescano insieme anche qui mi fa vedere paziente le insegna bene tutte quante le tecniche per pescare altre? aspetta perché qua vedo tipo i tre chechi per cui siamo adesso al freddo e qui tipo sì come se non so vivono semplicemente vivono per sconfiggere il freddo quindi la loro giornata è impostata così per riscaldarsi e direi che sono no marito e moglie come dirti due promessi sposi ma lei non vorrebbe questo questo promesso sposo altre? aspetta eh perché mi fa vedere lui che è un bambino e lei che sta andando all'altare con un uomo è come se questo bambino qua è innamorato di lei che ovviamente c'è un amore impossibile perché lei è una donna e dice prima o poi ti sposerò io e altre non ne vedo esiste la fiamma o l'anima gemella di Maria? no allora nella porta nella parte alta dell'Italia ovest nord ovest gemella sì però non non è libero è impegnato anche lei lo è quindi sì questa qui tipo sì è un'anima gemella direi di quinto livello no la fiamma non la vedo causa esoterica dell'immagine di Ganesh di apertura doveva venire fuori questa cosa questa questione qui ovvero che lei chiede fuori di poter superare i suoi momenti di difficoltà e di sconforto chiede all'esterno e deve quindi imparare a fare questo tipo di passaggio quindi le richieste sono a se stessa sono a una parte che è immensa che è infinita di se stessa ed è quella parte che è direttamente connessa alla sorgente deve fare bene questa distinzione la deve comprendere e quindi era importante che lei proprio lo mettesse così tanto in evidenza lo mostrasse così sfacciatamente lo mostrasse a noi ma per mostrarlo a se stessa poi alla fine per capirlo lei va bene cosa facciamo qui oggi con Maria la solita pulizia e basta lei cosa vuole fare un proponimento tipo un proponimento di una vera e profonda trasformazione è come se lei allora un po' quasi in un certo senso legata a certe modalità passate ma con una qualità diversa volesse fare un giuramento questa volta tipo un giuramento a se stessa cioè un esprimere dei fermi propositi uno degli intenti sinceri prima comprendere profondamente che il conforto e il superamento del dolore e delle difficoltà lo otterrà solamente contattando la propria anima comprenderlo e poi farlo contattare la propria anima nei momenti in cui si è in difficoltà ah quindi Monica non chiamando l'angelo custode no no lei adesso questo lo ha capito ok Monica quindi il superamento delle proprie difficoltà non si ottiene facendo un'altra sessione che facciamo noi vediamo noi al momento decisamente no cioè quello serve poi si aspetta poi si torna tutto faccio un'altra sessione aspetta noi puliamo se no di nuovo si ricade sempre all'esterno qualcuno fa qualcosa per me no lei deve capire che questo è un lavoro congiunto che in realtà è guidato da lei e dipende solo ed esclusivamente da lei secondo proposito affrontare quello che è stato e questo per lei significa non criticarsi o condannarsi per quello che è stato vederlo davanti a sé e perdonare quella Maria lì dire ok questo è stato mi serviva a cosa mi è servito vedersi un po' come dall'esterno perché lei al momento è una Maria diversa da quella però la deve vedere quella Maria lì altro buon proposito valorizzare la propria capacità di trasformazione è lei ha la possibilità di cambiare profondamente i rapporti che in questo momento esistono nella sua vita sia il rapporto col marito sia il rapporto difficile con la figlia poi difficile in modo alterno adesso secondo me è un po' meglio lei ha proprio la possibilità di farlo ma l'unico modo è che lei si porga in maniera sincera vera autentica rispettando la sua vera natura che non è quella non so fredda e a volte scostante che manifesta perché lei non è così e com'è è gentile e solare e questo se lo deve ricordare lei è gentile e solare tutti i buoni propositi che si vuole lasciare li elenchiamo questi lei se li può scrivere leggere a avere un po' davanti agli occhi quotidianamente per metterli in atto quindi sono questi Monica c'è ancora una fattura? no no quella lì l'avevamo cioè in realtà era già stata risolta attraverso un sacchettino poi mi ricordo che era stato messo in cantina poi non c'era più gli effetti di quella fattura ormai sono superati cosa rimane davvero quella è la vera ragione per cui di fatto è tornato tutto lei ha molta difficoltà a perdonarsi e a tratte si sente molto sporca e molto cattiva molto in difetto causa esoterica causa esoterica si è accollata fa vedere no che si tipo come se da bambina ci fosse stata una specie di non so di identificazione di spostamento come se lei si fosse accollata delle cose che appartenevano a sua mamma se le messe lei addosso e ha deciso che avrebbe scontato delle cose riprodotto certi comportamenti e ne avrebbe pagato le conseguenze le avrebbe scontate duramente cioè lei si è proprio scollata dalla sua anima no per cioè mi fa proprio vedere no come nel passato lei viveva nel corpo ok quindi tutto ciò che esisteva per lei era il corpo le esperienze fatte dal corpo e l'anima era proprio boh relegata in un cantuccio e lei non aveva nulla a che fare con la sua anima come quando ha avuto le avventure e le ha annunciate alcune al marito in virtù di così io vedo più grosso prima cose più grosse molto più grosse non credere proprio diciamo all'amore è la negazione dell'amore ok quindi lei adesso mano a mano sta di nuovo riconoscendo il valore dell'amore c'è stato un periodo della sua vita in cui negava completamente l'amore per se stessa e l'esistenza dell'amore e questo è stato ha provocato delle conseguenze molto grosse che cosa vuole fare io ci voglio ritornare al cluster adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa adesso mi fa vedere come una specie di siringa infilzata e lei la vuole togliere e pensa che non la vuole estrarre ah che siringa forse si riferisce al fatto che lei ha fatto un certo tipo di lavoro nel passato alcune cose probabilmente sono alcune esperienze che si sono accumulate erano forse anche nel periodo in cui faceva questo lavoro perciò che forse mi rappresenta la siringa però anziché scegliere di estrarre la siringa è come se volesse l'intera scena buttarla via nel portale aureo non solo la siringa perché vuole un rinnovamento completo e lo fa sì sì lo fa assolutamente lo fa cosa lascia qui dice un ad eternum d'amore come fatto e dunque mi ricorda vagamente un garofano ti devo dire ecco diciamo un garofano una forma di garofano non vedo il gambo però del garofano solo la parte del fiore avatar vediamo cosa c'è guarda come se fosse un avatar con dei costumi un po' discinti femminili che digita freneticamente sulla tastiera lei è un po' disgustata Maria da questa visione qui non le piace perché basta perché basta tutto questo basta le cose finte basta gli inganni delle chat basta gli inganni dei sensi è arrivato il momento dell'amore l'amore non ha che vedere con questo lei pensa a volte di dare l'amore attraverso questa chat questa persona bisognosa ha pensato di fare un gesto d'amore però è un amore ingannevole quello lei può vivere l'amore nella maniera vera e autentica nella sua vita vera concreta non in queste virtuali che sono finzioni è per questo che in maniera proprio risoluta anche un po' disgustata butta via questo avatar e il computer e tutto il resto dentro il portale definitivo la pulizia è stata fatta sì le entità eteriche e mentale non ci sono più non ci sono più impianti non ci sono più no vali davvero il progetto non c'è più no bene tutto a posto riprendiamo a fare la stessa vita di sempre e le stesse minchiate no no quindi al primo momento di sconforto preghierina no al primo momento di sconforto chat con uno sconosciuto su facebook eh no e allora cosa cosa si propone come anima Maria di guardare la sua vita di guardare il marito mentre lui non la sta guardando guarda il marito mentre lui è occupato in qualcosa è impegnato in qualche compito in qualche lavoretto di guardarlo di guardarlo con degli occhi in cui può vedere la sua anima l'anima di Maria che guarda l'anima di quest'uomo questa è la prima cosa che deve fare la seconda cosa è guardare l'anima di entrambe le sue figlie e permettere che loro guardino la sua anima al di là del fatto che lei è la madre e loro sono le figlie anima verso anima anima davanti anima emanando l'amore lei non ha bisogno di difendersi a volte essendo dura fredda e scostante non ha bisogno lei se sta nell'amore riequilibra tutto nuova frequenza 112 miliardi consapevolezza 172 ps 52 vite mille tre finale cervello 9.2 vuole lasciare un messaggio alla figlia sceglie la figlia grande non sente di avere delle cose irrisolte con la figlia grande è come se abbracciasse contemporaneamente lei e il nipotino siete parte di me al marito ne abbiamo passate tante insieme e voglio continuare con te al alla fiamma all'anima gemella non è il momento a se stessa ho camminato tanto nel fango ora sono uscita dal fango cammino su un prato verde sto nell'amore sono l'amore e amo come la vedi fiorita circondata dai fiori sorridente se fosse un fiore come la vederesti più fiori forse un bouquet non un'unico fiore fosse se fosse un colore giallo se fosse un luogo di villeggiatura un torimini ma è quindi se fosse un piatto piatto di gnocchi e patate sono verdi questi gnocchi si patate e qualcos'altro hai gli spinaci può darsi una canzone vita mia ti penso minghi no non conosco minghi pochi capelli va bene abbiamo finito no Grazie.